Ciao ragazzi, oggi faremo uno slime che servono solo a tre ingredienti la farina 00, poi l'acqua e della crema cominciamo mettendo della farina a che già ho messo prendiamo un cucchiaio, mettiamo l'acqua poca, ok voi ne dovete mettere tante perchè io l'ho già fatto uno slime vedete è già pronto, è quasi pronto, ma voi mettetene tante di acqua poi mettiamo la crema e giro lo devo pure impastare a mano vi assicuro che questo ne va messo in frigo e in freezer ok, prendiamole in mano profuma pure scusate dietro però a mio anno piazzano quelli dietro le prendo in mano e non è ancora un po' pronte perchè le devo impastare questo non va spezzate perchè se no non si attacca più come vedete quando è finita di impastare ve lo faccio vedere e eccoci ragazzi guardate lo slime è pronto però come vi ho detto non dovete romperlo perchè se no non si può più attaccare l'ho preso un pezzettino piccolo ciao ragazzi vi ricordate di iscrivervi al canale attivare la campanellina così la campanellina così vedete tutti i miei video e mettete un pollice in su ciao